Il nostro futuro lo immaginiamo a passo d'asino. Per i bimbi, per le persone fragili, per i nonni, ma per qualsiasi persona che abbia desiderio di rallentare, di respirare e di imparare dalla natura quello che ci può insegnare. Nel percorso sensoriale, dalla carezza all'asino, accarezziamo la natura per sentirne i profumi e ci incamminiamo al passo lento dell'asino nei nostri amati boschi di Carrega vicino alla nostra fattoria. Nella nostra fattoria di dati Casinando abbiamo uno slogan, quello delle tre C, coccole, carezze e cura, che dedichiamo ai nostri amici asinelli che ci insegnano ogni giorno a rallentare, a respirare e a rilassarci.